Allora, dammi la linea, ci sei? Chiamiamola Puglia, hotel... Vai! Pronto, hotel... Pronto? Sì? L'altro anno abbiamo organizzato da voi l'Atà per il weekend e siamo stati con la famiglia e... Ma perché quest'anno ci hanno cattato e sono andati loro? Perché quest'anno? Aspetti, non la sento bene. Come mai, signora, non la sento bene? Non lo so, non dipende da noi. Allora, stavo dicendo, stiamo arrivando, noi abbiamo prenotato per questi nove giorni, ma dobbiamo tornarci poi quest'altra settimana? Ma non saprei... Perché la signora ci ha detto, non c'è nessun problema con le stanze, ma io i turisti ce l'ho sul pulma, li devo scaricare in qualche hotel, eh? Perché dal fax che mi hanno lasciato l'agenzia, adesso io li lascio da voi. Senta, devi avere un attimo di pazienza, chiedo alla responsabile. Sì, può dire che è arrivato il fax, che io sono a 20 minuti dall'hotel, sto arrivando con i turisti, in qualche modo li lascio là, poi la responsabilità è vostra. perché purtroppo io faccio l'autista, non è che organizzo. Senta, a noi non ci risulta per stasera che abbiamo fatto... Eh, lo so che non risulta, signora, però il fax diceva questo, hotel, b****, eccetera, hanno disposizione, sto leggendo, signora, eh, dei turisti, fai... e le famiglie, e sono circa... loro sono 23, io li lascio là all'ingresso, però ho bisogno di organizzarli, perché altrimenti l'agenzia mi rimanda dietro il fax. Eh, io non ne so niente di questo fax, aspetta un attimo. Sì, signora, faccia veloce che stiamo arrivando, siamo a tre chilometri da lì. Attenda. Adesso mi passerà. Pronto? Pronto? Pronto, mi dica. Allora, le spiego, è arrivato il fax. Sì? L'agenzia mi ha dato, io sono tre anni che lavoro con gli hotel, per adesso, con lo vostro, e siamo arrivati, noi stiamo a tre chilometri, io lascio i ragazzi e il gruppo, dopodiché la responsabilità di quello che l'agenzia, al mio gruppo. Fax di che cosa? Chiedo scusa. Senta, sia gentile, io sto lavorando. No, non so, qui non ho la prenotazione di niente. Sì, infatti le sto dicendo, io lascio i ragazzi là, le famiglie lì. Sì, mi chiedo scusa, ma io, a riguardo di che cosa? Cioè, io non so, neppure di conoscenza. Allora, scusate, voi ci avete mandato un fax dove diceva che non c'era nessun problema per queste tre serate, va bene? Noi abbiamo mandato un fax. Io oggi, domani e dopodomani non ho problemi. Però quello che dico, lascio i ragazzi, poi... Abbiamo l'albergo completo da un mese. Non ho capito, signora. Abbiamo l'albergo completo? Lo so, signora, ma a me... Completo da un po' Non è un problema nostro, signora. Ecco, se non è un chilò, devo girare qui? Gira, gira più a destra. Signora, sentimi, scusi. Noi dobbiamo assolutamente... Posso farle una risposta? Facciamo una cosa, signora. Io lascio le persone all'ingresso, poi chiamate l'agenzia, vedetela con voi. Ma qual è l'agenzia? Aspetta un attimo, gira qua, frena. Ecco, dietro l'archetto. Sì, ma se mi dice l'agenzia, non le posso dare nessuna... Non è che al c***o, non al d***o. No, signora, l'hotel d***o di Bari. Senta, se è gentile, sono tre anni che lavoro e faccio tutti gli hotel... Sì, ma io voglio aiutare a essere gentilissima. No, io le sto dicendo, le lascio il fax. Lascio i giapponesi da lei, i turisti, che poi tra tutti... Che abbiamo potuto prendere una... Signora, non riesco neanche a comunicare con loro, perché capisce, loro non parlano italiano. Mi ritrovo questi che mi fumano nel pulma e non riesco a dirgli che non si fuma nel pulma, perché sono giapponesi. Senta, noi non abbiamo nessuna protezione di nessuna gentilità. Ecco, appunto, io le lascio lì. Sono le facce davanti agli occhi. Ah, aspetti un attimo. Ecco, lì a 300 metri siamo arrivati. Signora, sono arrivati, io li lascio lì. Dopodiché lei... Io non ho nessun fax di persone che dovevano arrivare. Aspetta, faccia una cosa, le passo il responsabile, parla con lui? Sì, le passo il responsabile. Eh sì, senta, vieni a parlare lei. Pronto? Sì, qual è il problema, signora? Non ho capito. Sì, io non so, non ho nessun gruppo che mi deve arrivare. Sì, c'è arrivato un fax dove dice che per tre notti e tre giorni i giapponesi, i ragazzi di Yukumani, restavano da lei nell'albergo. Ora noi non possiamo pagare, non ho capito. Ma forse avete sbagliato, perché noi abbiamo... No, signora, abbiamo un fax firmato dal vostro hotel. Non è la prima volta che facciamo questi tipi di viaggi, eh? No, guardi, no, questo albergo nostro è completo da un mese. È impossibile, anche perché l'albergo nostro è fatto di appena 20 stane. Sì, sì, senta, faccia una cosa. Per evitare qualsiasi problema, noi lasciamo i giapponesi là. Dopodiché, se lei non si mette d'accordo con le stanze... Mi ascolti, non è che mi è messo in comunicazione con l'hotel c***o? No, no, signora, sto parlando... No, 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 guardi, sono anni che lavoro anche con voi. Una cosa, io li lascio là. Non potete liberare almeno 10 camere? Siamo completi da circa un mese. È impossibile. Qualunque persona sia stata qui... Signora, non può essere un problema... Lei conosce Marozzo? Se mi dice l'agenzia, che agenzia... L'ha chiamata Marozzo, Liviero? Agenzia? Marozzo, il signor Marozzo, l'ha chiamata ieri. Lei ha dato l'ok. No, no, guardi, mi dispiace. No, siamo completi nell'albergo. Mi scusi, ho qui il Marozzo. La faccio parlare con Marozzo. Si è chiamato ieri? Ma se le sognate, signor Marozzo? Signora, la faccio parlare con Marozzo che si sta anche... Noi andiamo, signora, abbiamo l'ha chiamato da circa un mese. Aspetti un attimo, le passo Marozzo. Si, passami Marozzo. Signora, ma quello che lei sta dicendo non è giusto? I giapponesi li abbiamo dentro dal pulma? Fumano! Fanno dei... Creano, creano dei problemi. Ora, non ci aiuta, signora. Noi andiamo di giapponesi. Non ho capito, signora. Noi andiamo da percuccio di vendicamera appena. Senti, io le lascio all'ingresso. Poi lei faccia quello che crede. Non so come fare. Certo, non le notazioni al d***o che non ne abbiamo. Mi dispiace, guardi, non abbiamo ricevuto nessun box. A lei le dispiace tutto. Io le lascio qui all'ingresso. No, ma lei faccia come vuole. Noi non abbiamo... Farmi i giapponesi, farmi! Non abbiamo... Non abbiamo... Non la sapete come vuole. Signora! Mi dica? Signora. Sì? Signora. Sì, mi dica pure. Lo so che sta lavorando. Sono Teoma Mucari di Libero, chiedo scusa. Pronto? Sono... Sì, dicevo, lo so che sta lavorando. È uno scherzo. Sono Teoma Mucari di Libero. Rai 2. Non lo sapete, è uno scherzo? No, non è uno scherzo. No, guardi, io non ho prenotazione. Io l'albeco ce l'ho pieno. C'è il cittadino. Va bene, signora. Allora facciamo una cosa. Signora. Sì? Io le lascio all'ingresso. No, guardi. No, signora. Io le lascio all'ingresso. Non ci sono, perché lo asante lo capisco. No, non ci sono. Io le lascio.